Sono stata invitata a partecipare a questo incontro. Volevo capire come la politica si possa migliorare quando si parla di italiani soprattutto nel mondo di quello che sono poi le sofferenze. Pertanto ho aderito a questo incontro proprio perché credo che ci sia la necessità di trovare una strada per gli italiani per migliorare la qualità della vita di tutti.